Il consorzio shopping in Teramo Centro alza la voce contro l'amministrazione d'Alberto accusata di trascurare il commercio e le esigenze della città. Tra le critiche principali emergono lo spopolamento del centro città, gestione dei parcheggi e numerosi cantieri aperti. Pur avendo più volte tentato di instaurare un dialogo costruttivo, i commercianti dichiarano di trovarsi di fronte a un vero e proprio muro istituzionale, fatto di promesse non mantenute e azioni che secondo loro danneggia il tessuto economico di Teramo. Io credo che ormai la misura è colma. Teramo vive una situazione di precarietà da troppo tempo e nella situazione dell'attuale precarietà si è aggiunta la disgrazia del defico. Chiamiamolo disgrazia perché di tanto si parla. E di conseguenza questo determina la morte del centro storico di Teramo. E lo si evidenzia dallo stato dei fatti, basta fare una passeggiata in centro storico in qualsiasi ora della città e ci rendiamo conto dello stato del centro storico di Teramo, un centro storico deserto, abbandonato ormai, e le attività commerciali, ma non solo le attività commerciali, attenzione perché qui non è solo una battaglia per il commercio, è una battaglia per tutto l'aspetto sociale che riguarda il centro storico di Teramo, quindi la residenzialità, il tessuto economico e tutto ciò che ci gira attorno, dalle scuole, le famiglie, i ragazzi, i ragazzi che non sanno più cosa fare in centro storico. La mancanza di parcheggi sostengono, scoraggia l'afflusso di clienti e penalizza ulteriormente i negozi già messi a dura prova dalla crisi. Il problema dei cantieri in corso rappresenta un altro punto dolente, progetti incompiuti e lavori a rilento stanno creando ulteriori problematiche. Ma diamo la motivazione alla gente per venire in centro storico, perché se tu tutti gli uffici più importanti me li hai portati fuori dal centro, io che ci vengo a fare? Noi ci sentiamo abbandonati oramai da anni, sono anni che il consorzio shopping in Teramo Centro ha fatto tantissime lotte, sono anni che lotta per riavere un centro storico gratificante, cioè appetibile. Se le attività possono rimanere in piedi e solo per merito della gente che poi entra ed esce tutti i giorni dalla città. Cioè il discorso parcheggi, ok non ci stanno, adesso ci stanno i cantieri, abbiamo un grosso problema. In questo momento forse i parcheggi dovrebbero essere gratis, perché quelli bianchi, gli stalli bianchi non possono essere utilizzati perché il loro posto è stato preso dai cantieri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.